Buongiorno a tutti, oggi a domanda risponde parleremo dell'argomento del giorno, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie anno scolastico 2021-2022. Andiamo subito a rispondere alle alcune domande dei nostri lettori. Sono residente nel comune A e insegno nella scuola X del comune B. Posso fare domande di assegnazione provvisoria nel comune C dove risiedono i miei genitori? Sì, il docente che fa domande di assegnazione provvisoria può scegliere liberamente a chi ricongiungersi. I coniugati non hanno obbligo di ricongiungersi al consorte come accade per i trasferimenti definitivi. Possono scegliere anche di ricongiungersi ai genitori. Per esempio, se il docente risiede con il coniuge nel comune A insegni in una scuola del comune B, può tranquillamente chiedere assegnazione provvisoria nel comune C, anche se questo comune fosse in altra provincia, se si tratterebbe di assegnazione provvisoria interprovinciale, però dove vivono i genitori da almeno più di tre mesi. Seconda domanda. Nella mia provincia di titolarità, la mia classe di concorso è in esubero. Posso fare domanda di utilizzazione interprovinciale? Certo, il docente che è titolare di una classe di concorso in esubero in una data provincia X può richiedere utilizzazione per tale classe di concorso in altra provincia Y. Contestualmente può richiedere, se in possesso di abilitazione per altra classe di concorso oppure di titolo di specializzazione sul sostegno, di partecipare all'utilizzazione per la provincia Y anche per altre classi di concorso o per la tipologia di posto di sostegno. Domanda numero 3. Nella sezione preferenze della domanda di assegnazione provvisoria posso inserire anche scuole che si trovano fuori dal comune di ricongiungimento? Si possono inserire anche preferenze di codice analitico o sintetico di altri comuni che non sia il comune di ricongiungimento? Certo che si può fare. Ma perché questi non vengano annullati è obbligatorio mettere prima il codice dell'intero comune di ricongiungimento. Dunque, prima si mette il codice dell'intero comune di ricongiungimento e poi si possono mettere anche scuole oppure distretti o comuni diversi dal comune di ricongiungimento. Seguiteci ancora sul nostro sito www.tecnica.scuola.it sui nostri canali social YouTube e Facebook perché tratteremo nei prossimi giorni con articoli e video proprio di utilizzazione e assegnazioni provvisorie. Un saluto a tutti quanti. Arrivederci. Grazie a tutti.